Benvenuti, benvenuti monarchici assoluti. Allora, anzitutto mi scuso con tutti voi perché, come avrete notato, ho dovuto rimuovere la live di ieri sera. Per chi se la fosse persa, abbiamo fatto la live reaction di Bologna Inter, io e Mustang, ci siamo collegati appunto dalle otto, abbiamo staccato a mezzanotte una bellissima live, anche se sapete tutti insomma come è andata la partita di cui adesso vado a parlare, ma prima vi spiego perché ho dovuto rimuovere la live, perché per errore ho cliccato su un commento che ho mandato in sovraimpressione, un commento che era una blasfemia, ok? Una blasfemia vietata su YouTube. Ora io mi sono subito dissociato, non l'ho detto io, era un commento, però non ho voluto rischiare eventuali chiusure del canale, quindi ho subito rimosso la live dall'elenco, onde evitare casini con YouTube, non si sa mai. Detto questo andiamo a fare un riassunto della partita, il risultato lo sapete tutti insomma del recupero Bologna Inter, clamoroso 2 a 1 per il Bologna, sconfitta dell'Inter, sapete tutti com'è maturata, adesso siamo tutti a mente lucida, ieri in live per chi c'era, tutti i miei follower, a un certo punto eravamo anche 180, insomma avete visto la mia reazione, io vi faccio un sunto di quello che ho detto ieri in live, cioè anzitutto anche se l'ho messo in copertina ovviamente perché è eclatante l'errore di Radu, l'autogol praticamente che segna il 2 a 1 a 10 minuti dalla fine, non è tutta colpa di Radu, cioè cercate di seguirmi, è ovvio che il 2 a 1 è colpa sua, è un autogol, ma non è colpa sua il fatto che mancassero 10 minuti alla fine e l'Inter stava pareggiando 1 a 1 col Bologna. Poi il calcio è imprevedibile, in quegli ultimi 10 minuti anche immeritatamente magari andiamo a trovare il gol e la portiamo a casa 2 a 1 e cambia tutto, ma non possiamo saperlo, io a differenza di tutti gli altri youtuber giudico la prestazione, non mi faccio incantare da risultato e ovviamente la prestazione varia da partita in partita, se con la Roma hai fatto una partita dove hai dominato calcio champagne, il primo e il secondo gol sono azioni stratosferiche, col Bologna abbiamo giocato malissimo, perché nonostante abbiamo aperto dopo due minuti con un gol capolavoro di Perisic, che però è un'azione personale di Perisic, quindi non è la squadra, quello è Perisic che fa tutto da solo, fa un gol da fenomeno. 1 a 0, poi abbiamo avuto diverse occasioni, soprattutto due con Lautaro, dove praticamente una è un rigore in movimento e calcia alto, l'altra su un cross dalla destra credo di Danfris anticipa il difensore ma calcia fuori, un'altra ancora con Correa, un'altra con Barella che viene anticipato di un soffio mentre era da solo davanti al portiere e viene anticipato da un soffio proprio da Chorupski in uscita, poi però sull'1 a 1 ci siamo spenti, abbiamo smesso di giocare, l'1 a 1 è maturato perché a Barro sulla sinistra del loro attacco, quindi sulla nostra destra, lì avrebbero dovuto coprire il cross Dunfris e Barella, a quell'altezza in realtà più Barella, a Barro viene dato tutto il tempo di rientrare, prendere la mira e mettere un cross sul secondo palo che Arnautovic sfrutta perché si stacca, quindi è bravo Arnautovic a defilarsi dalla posizione centrale e andare un po' più sulla sua destra quindi sulla nostra sinistra e staccare di testa perché si va a mettere lì Arnautovic? Perché sa proprio che c'è Di Marco che è basso, Di Marco io lo dico da inizio settembre, Di Marco e D'Ambrosio non sono dei difensori centrali sono dei terzini adattati che poi Juric l'anno scorso l'abbia fatto giocare nel Verona come terzo centrale di sinistra non vuol dire che Di Marco sia un centrale, Juric ha sbagliato a fare quella cosa perché quando appunto spiovono dei cross in aria e Di Marco deve coprire, finisce che gli altri segnano, ma non è colpa di Di Marco la colpa in quel caso è di Inzaghi che rischia troppo, poteva mettere bastoni o se proprio non è in forma bastoni D'Ambrosio, spostando magari i scrini alla sinistra e poi lì la grande colpa è di De Frij perché è De Frij che deve leggere la situazione e capire che il suo compagno Di Marco non potrà mai contrastare Arnautovic di testa quindi De Frij deve lasciare la posizione centrale, non stava marcando nessuno e andare a coprire lui su Arnautovic detto questo Radu, anche lì poco reattivo, poteva fare di più ma ripeto la colpa di quel gol fondamentalmente è di De Frij non di Di Marco che insomma non può farci niente lui lì, lui prova a saltare ma non è colpa sua e quindi questo è un evidente limite di Rosa, no? non avere dei difensori centrali di riserva perché due sono terzini adattati, D'Ambrosio e Di Marco l'altro che è l'unico vero centrale di loro è Ranocchia che è inutile che voi dite quando entra fa il suo Ranocchia quando entra procura almeno una o due occasioni a partita per gli altri quindi non andate a difendermi Ranocchia, non vedo l'ora che vada via e che non rinnovi mi auguro, adesso credo che non dovrebbe rinnovare, speriamo l'altro grande limite e qui veniamo al motivo per cui l'Inter passa da fare una partita show calcio champagne con la Roma a fare una prestazione col Bologna dove dopo che prendi l'1-1 ti sciogli e non riesci più a creare occasioni offensive perché parliamoci chiaro dopo il pareggio del Bologna di Arnautovic forse abbiamo creato un'occasione in mischia con D'Ambrosio che tira, fa un mezzo tiro e la palla viene ribattuta dagli altri sulla linea di testa ma non puoi dire ho costruito poi grandi occasioni, ho fatto gran che perché? Perché ragazzi quando non hai più un centro avanti che non ti serve solo a farti 20-25 gol come ha fatto Lukaku, come negli anni in precedenza ha fatto Icardi ma ti serve a far riposare la parte fondamentale della squadra che sono i centrocampisti cioè noi per vincere tutte le partite dobbiamo creare tante occasioni perché non avendo un bomber se crei tre occasioni come ieri col Bologna che tre alla fine nitide le hai fatte nel primo tempo fai un gol perché non hai il bomber che ti fa gol su tre occasioni te ne fa due, non c'hai quell'uomo lì in più oltre ai gol che ti mancano anche per portare avanti la partita e mantenere quindi il possesso e la vittoria non hai mai la soluzione, la lancio lungo il centro avanti, alto, forte, me la stoppa, tiene palla e fa salire la squadra non c'è più perché non abbiamo un giocatore così Dzeko non è uno così non sa fare questo lavoro, non l'ha mai fatto neanche quando aveva dieci anni di meno a Dzeko piace giocare fuori dall'aria e non è uno bravo a tenere la palla e a far salire la squadra assolutamente no, è più un registro offensivo quindi questo causa uno sfinimento dei tre centrocampisti centrali non è un caso che quando l'Inter gioca ogni tre giorni non fa prestazioni positive cioè una magari grande prestazione subito dopo la sbaglia ok? perché non ci hanno le forze allora uno può dire ok ma tu puoi cambiare gli interpreti li cambi vero? Barella, Cialanoculo e Brozzo li sostituisci chi sono i sostituti? Gagliardini non può circolare, non può giocare a calcio perché? sbaglia i passaggi a tre metri non recupera se non col fallo e in avanti è inutile quindi Gagliardini zero Gagliardini non è neanche da Salernitana Vidal è vecchio non ce la fa né a fare le corse in avanti né all'indietro tecnicamente perde palloni sanguinosi e ti fa prendere gol è anche uno nervoso che provoca un sacco di espulsioni eccetera ricordiamoci Corea al Madrid dove si fa buttare fuori Vesino è uno fuori dal progetto comunque non ha il passo perché non è più allenato non è bravo nei contrasti aveva mezza qualità a inserirsi a fare qualche gol in inserimento ma le ha perse perché ormai è fuori dal progetto se ne vuole andare non rinnoverà quindi giocando sempre i tre centrocampisti centrali e dovendo giocare sempre al massimo per creare occasioni perché io vi ripeto ragazzi quando tu giochi di possesso non vuol dire stare fermi e passarsi la palla quello è gestire la palla ma perché la gestione diventi occasione gol i tre centrocampisti devono muoversi in continuazione e fare triangoli fra di loro e con gli esterni o con gli attaccanti che vengono incontro quando i nostri centrocampisti non hanno questa forza l'Inter crea poco creando poco non fa tanti gol perché non ha un vero e proprio bomber non facendo tanti gol rischia di perdere come è successo ieri col Bologna poi l'errore di Radu è un errore che in Serie A non si può fare però l'ha fatto anche Meret l'hanno fatto anche altri portieri io non me la sento di dare tutta la colpa a lui come non me la sento di dare tutta la colpa a Inzaghi perché se non c'è un centravanti e quindi Inzaghi deve fare sempre lo stesso gioco non ha mai una variante e se non ci sono centrocampisti di riserva di qualità e se non ci sono difensori di riserva di qualità non è colpa di Inzaghi è colpa della Rosa non si vincono i campionati senza avere un centravanti c'è riuscito il Barça perché il falso 9 si chiamava Messi e quelli che ci aveva vicino si chiamavano Xavi Iniesta, Neymar, Suarez eccetera eccetera fenomeni puri quindi ragazzi la spiegazione è questa ecco perché l'Inter per due mesi ha avuto un calo perché poi i centrocampisti quando calano non crei più occasioni o comunque ne crei meno e le partite le puoi perdere questa è un Inter che non dà sicurezza perché non ha un punto fermo in avanti che ti risolve le partite e quindi i centrocampisti devono giocare sempre a mille all'ora gli esterni pure è un problema se manca uno dei centrali o non è in forma perché De Frey non è in forma perché è il secondo gol quello è l'autogol di Rado De Frey fa sfilare il passaggio di Perisic e non dovrebbe neanche farlo dovrebbe intervenire e spazzarla si fida troppo di Rado che sta per essere vessato da Sansone comunque vabbè lasciamo stare e quindi niente ragazzi per tornare a noi mi dispiace di aver dovuto rimuovere la live ma l'ho dovuto fare ragazzi perché sennò c'era il rischio che mi creasse problemi YouTube comunque mi sembrava giusto farvi il video per chi si fosse perso la live di come ho visto io la partita per quanto riguarda lo scudetto ve l'ho scritto anche in copertina per me addio scudetto per me non ci sono più speranze perché non vedo questa squadra che può darti la certezza di vincere tutte e quattro le partite non tanto perché il Milan non ne può sbagliare uno e per sbagliare intendo perdere magari il Milan può perdere con la Fiorentino con l'Atalanta o con Sassuolo può perdere il Milan ma io non vedo l'Inter capace di essere in maniera certa vincitrice per quattro partite soprattutto con il Cagliari che si sta giocando la salvezza facendo stare l'Udinese con una squadra ostica difficile ma questo è il problema quindi per me addio scudetto ci pensiamo l'anno prossimo ma per pensarci urge un centroavanti prima cosa uno che fa 20 gol all'anno e che fa salire la squadra che ha fisico che difende a palla e urgono dei ricambi di qualità al centrocampo nei centrocampisti centrali e anche dei ricambi in difesa finché non sistemiamo questo ragazzi scordiamoci le vittorie perché non siamo costanti questa è la visione del monarca mi raccomando iscrivetevi al canale sono attivi anche gli abbonamenti per chi volesse abbonarsi seguitemi in descrizione trovate tutto i link per seguirmi su facebook su instagram su twitter per unirvi al gruppo telegram così parliamo di calcio al mio gruppo telegram e poi mi raccomando condividete i miei video con gli amici come ultima cosa vi chiedo per voi è finito? lo scudetto è finito? la pensate come me? o c'è ancora speranza? fatemi sapere la vostra il nostro solito saluto in latino vide te mox